Ha insultato e compiuto un gesto volgare rivolto agli uomini della squadra volante. Il 18enne ucraino B.A., già noto alle forze dell'ordine, residente a Verbagna, denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L'altra notte, dopo le due, la pattuglia stava passando per un normale controllo in via dei Bonis, una delle vie della Movida in Tresi, quando il ragazzo, che si trovava con un gruppetto di persone, ha chiamato i poliziotti in dialetto napoletano e con le braccia aperte ha portato entrambe le mani verso le parti intime, fischiando. Gli uomini del commissario capo Giuliano Ciraldo lo hanno identificato. Il ragazzo, molto ubriaco, aveva un alito vinoso e faticava a mantenere l'equilibrio. All'invito dei poliziotti di seguirlo in questura ha risposto in vendo e minacciandoli. Ha mantenuto lo stesso comportamento anche negli uffici della polizia. Dopo tutte le formalità burocratiche, l'Ucraina è stato denunciato e quindi rimesso in libertà.